The Show The Show presenta Scherzi al citofono Episodio 4 Citofono peccaminoso Sì, buongiorno, sono Don Alessandro della parrocchia martesana Ci hanno segnalato che lei è un onanista Cosa sono? Un onanista È lei? Ma no, ma è cos'è? Non si tocca nel buio delle sue stanze? Ma no Non frequenta siti sconci? Ma no, ci sta Non chiama numeri birichini? Dunque non è lei? Sì, sta Vado via No, non si inalberi Insomma, cacciare così la Chiesa Cattolica Volevo giusto dirle che la assolvo dai suoi peccati Senta, maledetto imprecino Cosa vuole? Lei chi è, scusi? Lei è un credito No Citofono Drive Sì? Sì, buongiorno, benvenuto al Drive Ordini pure Ma no, ma chi desidera? Eh, no, cosa desidera lei? Sono qui per l'ordine Non lo so Eh, non abbiamo Abbiamo gli hamburger Le crocchette Non so Vuole qualcosa di sfizioso Vuole proprio pranzare? Ma non lo so Io non ho ordinato No, non ha ancora ordinato Sono qui posto per l'ordine Aspetti un po' Vediamo Sto aspettando che c'è un po' di fila Eh, ma vuole salire Non lo so Perché Ok, allora facciamo così Io la faccio accostare Intanto servo gli altri clienti Quando è pronto Lei si rimette in fila, ok? Ma dove? Eh, qua, no Qua è al Citofono Ah, al Citofono Sì, sì Tutto al Citofono Un Drive al Citofono Grazie mille A tra poco Citofono 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 Altrui Palazzo di un certo tipo Ho immaginato Lei stessa casa Perché chi abita qui Mi sembra che abbia Abbastanza soldi Per non lavorare Eh, no Siamo tutti pensionati Infatti Infatti A spese nostre Ma che ora? Ma che ora deve partire Mi scusi Oggi pomeriggio Eh, arriva la mattina Tanto il pacco Eh, dovrebbe arrivare questa mattina Sì, dovrebbe arrivare questa mattina Perché, tenga presente Ci sono dentro Quei sistemi Di deumidificazione passiva Perché c'è tutta la muffa in casa Se lei me lo ritira Poi io passo Magari Tra domani Dopodomani A ritirarlo Senta papà Non mi va tanto Questa faccetta Eh Mi spedessi con Alessandro Io la conosco Non so chi è lei E qui No, neanche io la conosco Mi sembra una persona così gentile Eh, invece Guardi Non sono gentile Con le persone che non conosco Porca miseria È un po' Csenofobo Questo atteggiamento Vabbè La pensavo Dal citofono Sembrava una persona diversa Poco più tardi Lei sta cercando S*** per caso S*** sì Qualch'è una cosa Ha un pacco per lei Alessandro Mi ha detto che doveva arrivare Un pacco d'arte Ma io non lo conosco Sto Alessandro Qui c'è La via È questa Da policy aziendali Siamo tenuti a consegnarglielo Onestamente Non so chi sia Alessandro E non so che giri Lei abbia qui in quartiere Adesso non voglio Intromettermi nei suoi giri Guardi Lei lo monta lì Perché io sto Alessandro No Io non posso Allora Non lo ritiro Mi dispiace Ma signora Non posso ritirare Per una persona Che non conosco No ma qui c'è scritto Ma ha detto che ha dato Il mio indirizzo Eh ma io non lo so Io gliel'ho detto Con un citofono Le relazioni che lei ha Con i ragazzi qui in zona Sono affari suoi Signora Se avete dei traffici Io il pacco Gli lo devo lasciare Non posso Cioè io Capisce Io sono un messaggero Ma io non lo conosco Ma quali giri Ma lei che giri dice Che giri vuole che abbia io Non lo so Magari di spaccio Di cose Io guardi Non voglio essere coinvolto Lei stia bene attenta Perché guardi Come fa No no io Sono arrivato Lei urlava Io faccio Facendo il mio lavoro Mi dà 1200 euro al mese Io non è che Va bene Nel senso Io non so di chi sia Le umidificatori passivi A muffa in casa Ma questo signore Ma questo signore Scusi Io non mi so Prendendo per il sedere No Citofono Shock Si c'è un pacco per Fonseca Ok Salve Pacco per lei Fost reaction Shock Shock Because The premier Give the boost For you Grazie Can you Legge With In the boost Please Thank you Shish Shish Ci dopano del consiglio Si Pronto presidente Buongiorno Scusi disturbo Ma questo governo Dura Mi sa che ha sbagliato persona Che fanno Ah È il mister dell'Inter allora Antonio Conte L'irreprensibile Ma vinciamo o non lo vinciamo Lo scudetto Giusto per Si si Se vuoi ti faccio vincere Due calci in c***a eh Pronto mister Mister Ci topano di corte Si chi parla Buffoni Si mi dica È ora che la smettiate Di fare Ma chi sei Sono uno a cui non piacciono i buffoni E l'atteggiamento dei buffoni mi infastidisce Oh hai finito Anche le riunioni di condominio Fare i pagliacci davanti a tutti Smettetela di fare i pagliacci del condominio Vi soprannominano i giullari della scala Oh suonami ancora e ti sparco la faccia Ok Buffoni anche aggressivi Citofono interrogativo Succato? Eh si dica Ma quando l'ultima volta? No non ho capito No dico quando è successo l'ultima volta Succato Citofono felino Sì Sì salve Mi scusi tanto il disturbo Mi è scappato il gatto L'altro giorno Volevo sapere se per caso l'aveva visto Sul terrazzo? Eh si sul terrazzo Quando è che è scappato? Eh ieri L'abbiamo perso di vista completamente Volevo sapere perché cerca sempre di entrare in casa Sbrizolona si chiama Un bellissimo gatto color ramianto Magari in casa nascosta Se prova a urlare sbrizolona Ah ma noi abbiamo un gatto Ah che razza è? No no è un gatto europeo Ah Che croccantini gli date voi il gatto? Che croccantini? Sì O cibo umido Mi sta sorgendo un dubbio Non è che il suo gatto è il mio gatto Io ho il mio gatto da 15 anni Eh però a me è sparito da 16 Signora una candid camera Scusi Era uno scherzo al citofono Esatto Ma no altrettutto mi riprendete Che sono vestita da casa Vengo giù Ma va ma è bellissima Thank you Thank you Perché stai a fare? Eh cercando di far cadere il governo Però Ah Grazie Giusto Scema io perché sono scesa E ne ho detto io Buongiorno Buongiorno Ciao Beh i ragazzi ci conoscono Ci hanno fatto uno scherzo alla signora Vabbè un po' di adrenalina Ci sta In realtà era una piccola candid camera Vedi che c'era una Tra le cose anche scherzo al citofono Ah sì Beh così era un po' difficile Di conoscere Questo era il quarto episodio Di scherzo al citofono Non so se vi ricordate Ma nel secondo episodio Era successo una cosa Piuttosto importante Per il nostro canale Un episodio che alcuni di voi Ricordano molto bene Che purtroppo non è più sul canale Chi l'ha visto E chi sa di cosa sto parlando Può scrivere due parole Nei commenti Voi sapete quali sono quelle due parole Tutti gli altri possono lasciare un like Perché a 100.000 like Tornano gli scherzi al citofono Non sottovalutate questo format Anche perché è l'unico Anzi Una delle poche candle Che possiamo girare in questo periodo E poi magari ci regala altre perle Tipo il temperino Come ha detto Ale Questo qui è il quarto episodio Ma io giungo fatto a Milano E mi sono un po' stufato Voglio provare il brivido Di farlo in qualche altra città Tipo Roma Che li proverei anche il brivido Di prenderne Perché sappiamo che i romani No sto scherzando I romani sono le persone migliori In Italia e nel mondo Forse Scriveteci nei commenti Dai Che città ci vorreste vedere Tutti quelli che chiedono Di essere seguiti su Instagram Lo fanno su YouTube Con la cantilina E seguitemi anche su Instagram ragazzi Il mio profilo Tante cose esclusive Io mi rendo conto Che il cervello bypassa automaticamente Quell'informazione Per questo sto facendo un verso E io vi sto chiedendo Di seguirci su Instagram Qui ci sono già apparsi tutti i tag Non vi starò a dire i motivi Ma vi dirò Secondo me funziona Altro verso Per catturare la vostra attenzione E dirvi di iscrivervi al canale Ragazzi Fatelo Fatelo Arriviamo a 5 milioni Mamma mia Ti hanno qualche bottone Ai 10 milioni Ai 10 Ai 10 Non ne ho preso nessuno in Italia Nessuno Beh non saremo di certo noi primi Però dai Arriviamo a 5 milioni Dai Arriviamo a 5 milioni Grazie a tutti.